Qui vi presentiamo le 5 migliori caffè in grani. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Caffè Ananini in grani miscela arabica, 1KG. È una miscela dal profumo estremo oltre che struggente comune di arabica, con un corpo meraviglioso e anche rotondo. È inoltre apprezzato per la gamma di profumi che vengono rilasciati sulle papille gustative come i profumi floreali e anche una leggera nota di mandorla tostata. Passando al numero 4. 3KG Caffè in grani Borbone Qualità Blue. In questi 3 sacchetti da 1Kg ciascuno viene accolto un articolo con una preferenza ben bilanciata e arrotondata. È un mix corposo, sensuale e allo stesso tempo colto e esattamente dosato. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Caffè Verniano 1882 Caffè in grani 100% Arabica Bior. Questa miscela nasce dalla tostatura lenta delle migliori selezioni arabica ottenute dall'agricoltura naturale, valorizzando la natura e l'ambiente locale. È un ottimo caffè con una preferenza fragile e una fragranza sferica, per gli amanti più bisognosi. La confezione dell'aspirapolvere da 1Kg mantiene il caffè fresco e profumato. Il giusto equilibrio tra le diverse varietà di caffè e anche il particolare trattamento nella tostatura aumenta la sua struttura, corpo e aroma. Viene creato e confezionato in Puglia e la fornitura comprende 3 sacchetti da 0,5 kg cioccoli. E infine il numero 1 della nostra lista. Caffè in grani Lavazza 3 kg Linea Bar Gusto Forte Intenso Espresso 20 Questo articolo permette di fare un caffè espresso dal gusto intenso come quello della panca in casa. In ogni tazza, l'aroma speciale e anche la grande preferenza si incontrano che da 4 generazioni hanno fatto del caffè una qualità italiana. La spedizione comprende 3 sacchi da un tirocio per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.